salve amiche e amici e ben ritrovati dopo la live di ieri sera lunga di due ore oggi vi avevo promesso degli aggiornamenti ed eccoci qui iniziamo con questa bella immagine di un piaggio avanti due dell'aeronautica militare italiana i cieli sopra la nostra bella penisola sono piuttosto movimentati oggi c'è parecchie attività tutti questi sono voli militari sull' europa e ce n'è che ce n'è di cui parlare tra l'altro proprio un awax di cui vi parlavo anche ieri nella live come vedete è in volo a sud ovest dell'ucraina per queste attività e sta coprendo una zona di scansione approssimativamente di queste dimensioni circa 500 chilometri di raggio di scansione allora oggi ci sono diversi argomenti di cui parlare il video però non sarà particolarmente lungo parleremo della previsioni per quanto riguarda l'amministrazione trump alcuni aggiornamenti dal fronte ucraino alcune notizie che riguardano aviazione come sempre mi raccomando se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale è un piccolo gesto fondamentale per aiutarmi a crescere come canale come importanza anche per essere più indicizzato e così anche qui sotto trovate il pulsante per lasciare un mi piace tutte le funzioni di youtube per sostenermi quindi stavo dicendo diamo un'occhiata intanto ai cieli sopra la nostra testa sull'adriatico vediamo tanto per cambiare un aereo cisterna anche di questo ne ho parlato ieri fra l'altro vi ho portato anche dei test in simulazione per capire un po come funzionano questi aerei che sta facendo fra l'altro un pattern di rifornimento in volo a un e2 ok che è questo aereo questo aereo qui è l'equivalente del awax americano un po questo questo aereo questo qui però in versione più piccola è trasportato dalle porta aeree è un aereo imbarcato quindi turbo elica con la capacità di atterrare e decollare dalle porta aeree è un mini awax anche questo funziona come centro di comando mobile fondamentale per le operazioni se c'è questo aereo che tra l'altro è partito da tanto lontano stava facendo probabilmente un pattugliamento qui e fra l'altro guardate anche qui è pieno di aereo cisterne insomma l'attività nei cieli europei è veramente intensa vediamo se becco qualche b 52 ce n'è che ce n'è di attività di addestramento e anche sulla nostra penisola ci sono parecchi voli militari oggi c 130 partito da pisa tra l'altro quest'area in quest'area c'è uno dei più grossi arsenali della della delle forze armate statunitensi quindi voli che partono da pisa vanno poi a rifornire anche l'area del medio oriente per quanto riguarda munizioni e quant'altro golf stream partito dalla sardegna ce n'è che ce n'è quindi anche l'area del medio oriente piuttosto interessata da tanti voli militari ecco fra l'altro ieri rispondo a un commento questo è un drone che ha attivato il suo trasponder se un grosso drone in realtà qui c'era un altro più piccolino questi sono i droni che superata una certa dimensione devono attivare un trasponder per appunto segnalare la loro presenza e evitare il rischio di collisioni con il traffico civile bene quindi insomma tanta roba ecco qua c'è un altro awax della nato in volo sull'europa orientale con questi aerei noi monitoriamo continuamente ecco questi sono due awax le zone di scansione sono indicativamente questa e questa questo permette appunto di monitorare l'attività della russia a oriente insomma è importantissimo per capire quello che fa dato che gli aerei russi non hanno identificativi i ff come quelli della nato quindi bisogna continuamente monitorare la situazione è presente anche fra l'altro un river joint tanto per cambiare proprio qui questo aereo ha un importante ruolo per la guerra elettronica in quanto ascolta tutte le comunicazioni le trasmissioni in frequenza ma non solo anche altre capacità più segrete e importanti anche questo è un aereo ad ampio raggio che si occupa di fare la cosiddetta guerra elettronica a bordo di questo aereo ci sono c'è una squadra di personale che si occupa sia di ascoltare fra l'altro ci sono persone che parlano più lingue a bordo analisti specializzati professionisti e poi può svolgere anche il ruolo di centro di comando avanzato nella coordinazione delle attività congiunte ecco fra l'altro un aereo russo è partito fuoco fa sta tornando verso mosca quindi non perdiamo tempo e andiamo avanti poi mi raccomando se avete proposte richieste mi raccomando scrivetele nei commenti allora prendiamo le parole di trump che è stato appena eletto e le sue dichiarazioni sono praticamente queste settiamole prendete nota è perché queste dichiarazioni poi le useremo in futuro in un certo senso sono quasi quasi contento che abbia vinto perché qualche modo mi darà un sacco di contenuti di cui parlare nei giorni a venire impedirò è molto facilmente la terza guerra mondiale molto facilmente prima ancora di arrivare allo studio ovale avrò risolto la disastrosa guerra fra russia e ucraina sarà risolta rapidamente e la risolverò in tempi brevi non ci vorrà più di un giorno perché so esattamente cosa dire a ciascuno di loro perché andavo molto d'accordo con loro ok quindi aspettiamoci che ancora prima del suo insediamento allo studio ovale avrà risolto la guerra in ucraina in cinque minuti anzi in un giorno dai facciamo così quindi speriamo voglio dire tutti ci auguriamo che la guerra finisca in un giorno anche se poi però penso che ci vorrà un po più di tempo per far muovere le truppe lontano dai rispettivi paesi sia dalla russia le truppe ucraine dalla russia che le truppe russe da tutta la zona occupata quindi avrà sicuramente qualche tecnologia occulta da area 51 per il teletrasporto quindi come si dice non vedo l'ora di vedere questi queste 24 ore di trump che sorprenderà il mondo riuscendo a mettere d'accordo Putin e Zelensky perché andava bene d'accordo con loro nel frattempo godiamoci questo bacio in segno di fratellanza poi qualche ora dopo abbiamo visto melania a fare questo non ce la faccio più non so se questa è melania o sono io probabilmente sono io comunque ecco per ricordarci l'ironia del web in queste ore è spettacolare perché appunto l'ho sempre detto almeno la mia idea è questa voglio dire il populismo con cui ha vinto le elezioni trump poi avrà poco a che fare con la sua politica concreta è un po questo questo meme riassume il concetto no quando quando vuoi quando vuoi che le minoranze lgbt vengono messe al loro posto così i messicani musulmani ma non ti rendi conto che stai perdendo la tua assicurazione sanitaria è un po questo questa è la condizione dell'elettorato trampiano altra meme basta guerre consegnerò l'ucraina al mio amico Putin e Taiwan al mio nemico e quello dice il ministro cinese dice le isole del giappone delle filippine e Putin risponde la polonia mi minaccia quindi sì questa penso che sia un'ottima proiezione per quello che ci aspetta in futuro ora tratterò oggi anche il problema della disinformazione delle fake news c'è tanto da dire tanto quindi devo sintetizzare però ecco le informazioni sulla amministrazione trump precedente sono di pubblico dominio uno può anche lasciarsi abbindolare dalle dichiarazioni per cui fermerà la guerra in 24 ore impedirà il l'afflusso di migranti uno dice quando c'era trump quando c'era lui i migranti non arrivavano beh nelle prime ore della amministrazione precedente trump vuole dare uno scossone anche per dimostrare che era attivo che voleva dare insomma un cambio beh detto in parole povere la sua la sua politica per sollevare muri e impedire l'immigrazione gli si ritorse contro perché sollevò talmente tante contestazioni da parte del congresso e da parte delle degli organi di giustizia che poi non venne abrogato cioè non andò avanti la sua politica sull'immigrazione per quanto riguarda invece la politica estera che è quella di cui mi interessa di più poi vabbè lasciamo perdere il discorso sulle lgbt sull'aborto che insomma rappresenta la parte più retrograda tradizionalista americana e sulla quale neanche mi voglio esprimere però però se parliamo di politica estera trump nonostante sia passato come amico di ciccio kim infatti è riuscito anche a incontrarlo complimentoni e amico di putin queste dichiarazioni bisogna vederle nella giusta prospettiva perché di fatto durante l'amministrazione trump non ci fu non c'è mai stato un momento di peggiore tensione con la corea del nord tanto che appunto l'amministrazione trump ha fornito alla corea del sud un imponente scudo spaziale missilistico e i test sui missili balistici intercontinentali della corea del nord sono iniziati proprio in quel periodo insomma c'è stato un inaspiramento dei rapporti fra corea del sud corea del nord e stati uniti proprio in quel periodo segno che l'amministrazione trump ha usato il pugno piuttosto duro con la corea del nord per quanto riguarda la russia il 2 agosto 2017 che nei mesi precedenti durante la campagna elettorale trump si era mostrato critico sulle sanzioni economiche introdotte durante l'amministrazione precedente contro la russia dopo la sua occupazione della crimea e l'intervento nell'ucraina orientale poi in realtà trump firmò un'estensione di tali sanzioni fortemente volute dal congresso motivata come punizione per le ingerenze nelle elezioni statunitensi come ritorsione poi putin aveva annunciato l'espulsione di 755 diplomatici dal territorio russo questo è wikipedia che vi sto leggendo è storia voglio dire sono fatti storici e poi insomma andiamo avanti insomma si può anche essere un amicone però poi a livello pratico trump è solo uno e fa parte di una america repubblicana fatta da potenti lobby delle armi che hanno tutti gli interessi per andare contro la russia sono proprio anzi quegli americani che la russia non la guardano con buon occhio come devo dire quindi ripeto secondo me poi posso sbagliarmi bisogna sempre considerare le dichiarazioni pubbliche di un politico fatte per trovare il consenso per diciamo migliorare l'andamento delle azioni in borsa e il dollaro e il consenso popolare e poi la politica reale è tutto un altro discorso comunque insomma ci sono stati dei momenti di apertura ma anche di chiusura e fondamentalmente anche durante l'amministrazione trump le azioni nelle retrovie nel dietro le quinte da parte della cia in ucraina hanno portato poi alla preparazione per quella che sarà stata poi che è stata poi l'invasione su larga scala da parte della della russia inazionalmente questo l'ho già affrontato in altri in altri video inizialmente gli stati uniti non si aspettavano che l'ucraina avrebbe resistito alla all'invasione russa infatti avevano preparato un piano di assistenza per una sorta di guerra di resistenza come si dice sotterranea però poi in realtà abbiamo visto che gli ucraini hanno dimostrato molta più molto più coraggio e capacità di quello che tutti si aspettavano per quanto riguarda la siria il 7 aprile 2017 trump ordinò il lancio di 59 missili tomahawk sulla base aerea siriana dalla quale poi era decollato responsabile di un attacco chimico terroristico non si è mai inaspirato più di così il conflitto in siria sempre a causa dell'amministrazione trump e fra l'altro la difficile situazione che è attualmente proprio in siria è frutto anche di quelle scelte poco sagge magari parlerò in futuro della siria perché è un argomento a cui tengo particolarmente e ho anche delle fonti di prima mano ora c'è ancora poi d'altro da dire lo stesso è stato fatto in afghanistan in cui per la prima volta gli stati uniti hanno utilizzato la mohab sempre queste sono attacchi tutti firmati dal presidente degli stati uniti che è il comandante in capo delle forze armate all'autorità per autorizzare certi tipi di azioni e quindi sì di sicuro non è stato proprio pacifista come vorrebbe far credere le cose peggiori poi le ha fatte con l'iran infatti molti dei molte delle situazioni che viviamo oggi anche poi scatenate nei confronti di israele insomma la situazione politica attuale è frutto anche della politica di trump che fece di tutto e di più per inasprire gli accordi nucleari con l'iran e l'escalation che abbiamo visto poi nei mesi successivi israele ok parliamone nel senso è chiaro che anche qui c'è un trump pubblico che fa certe dichiarazioni è un trump poi militare e che è il portavoce di quell'america che invece israele lo supporta e come quindi anche qui bisogna sempre no riuscire a separare le cose viene scritto sulla pagina di wikipedia che insomma lui annunciando poi il riconoscimento di gerusalemme come capitale di israele poi spostò addirittura l'ambasciata americana statunitense a tel aviv questa decisione ha provocato forti critiche sia nella comunità araba che dai governi dell'occidente insomma una presa di posizione piuttosto filo iraniana da parte di trump non credo proprio che sarà un supporter della palestina quindi mi dispiace se qualcuno qui in italia pensa il contrario ma non credo proprio sul clima poi non ne parliamo uno che non crede al cambiamento climatico quindi ha fatto di tutto per anche qui non è una questione ideologica è il semplicemente il fatto che lui rappresenta fondamentalmente lui rappresenta l'america dei del denaro dei soldi che non ha nessun interesse nella riduzione delle emissioni e che fa grandi affari sulla sulle politiche tradizionali di consumo energetico automobilistico e quant'altro insomma è po semplicistico da dire me ne rendo conto ma è così tra l'altro ecco ulteriore supporto a israele da parte americana in arrivo proprio da queste ore con l'invio di squadriglie di f15 e in supporto all'aviazione israeliana proprio in previsione di una possibile ritorsione da parte iraniane bene e poi fra l'altro leggiamo i commenti di gente che non ha capito che in realtà trump sta proprio con quelle lobby che supportano israele infatti questo tizio dice bene con trump probabilmente finiranno anche le restrizioni per una nuova risposta israeliana ah infatti no questo ragazzo dice esattamente quello che sto dicendo io sì ecco non mi aspetto sicuramente una politica più morbida da parte di trump in questo senso almeno per il supporto a israele più forte e più pesante più pesante come questi due americani questo per collegarmi a steven seagal ecco pesanti e poco mobili non qui non si parla assolutamente di mobilità bella immagine parliamo di ucraina allora non ci sono grossi aggiornamenti se non la continua avanzata russa sud est parliamone nella regione di kursk si segnalano diversi scontri e fra l'altro mezzi di russi mezzi russi intercettati addirittura in centro vicino a malai a locca qui questi sono stati colpiti in questa su questa strada quindi segno che i russi sono riusciti comunque a fare delle incursioni in profondità ora continuiamo mi mostro anche quest'altra mappa perché è un po più aggiornata su alcune posizioni ucraine nella regione di belgorod che andiamo a vedere subito adesso quindi come vedete continua l'incursione ucraina qui a zuralovka il bosco lo hanno catturato e presidiato dalle forze ucraine ma allo stesso tempo vediamo molte molte attività russe che cercano di di appunto vedete qui hanno cercato di incendiare proprio questo bosco solo che il periodo è piuttosto umido e non ci saranno sicuramente riusciti mentre all'ipsi a nord dell'ipsi continua la presenza ucraina in quest'area con pressione da entrambe le parti stessa cosa per esempio qui c'è stato un leggero una leggera riduzione della presenza russa nell'area di vojciask in questi quartieri vicino all'ex ospedale ora non rimane più niente della città è un cumulo di macerie spostandoci più a sud vediamo che ci sono state attività da parte russa tentativi di sfondamento tendenzialmente arginati da operazioni droniche ucraine che vediamo a makifcha qualcosa del genere e toresk è l'altra zona adesso la vediamo meglio sulla mappa dei mayakosc a ecco fra l'altro prima di parlare di toresk parliamo di chiasi vr qui da giorni era tutto fermo ma ieri il 6 e 5 l'altro ieri scusate stavo dicendo l'altro ieri 5 questo è stato un attacco russo in pieno centro nella zona centrale di chiasi viare in queste abitazioni che sono delle villette con del verde intorno si vede questo mezzo ucraino che è stato colpito dalla russia dalle forze russe stessa cosa poco più a sud sempre il 5 un carro armato ucraino è stato colpito in questa zona qui vengono poi segnalate truppe in contatto segno che qualcosa si sta muovendo da parte ucraina il 6 ieri c'è stato invece un attacco nelle retrovie in quello che sembra essere una zona elettrica di smistamento elettrico penso spostandoci sulla zona di toresk rimangono le pressioni la parte ucraina con l'ottimo lavoro svolto per una riduzione del controllo russo ma nel frattempo nei quartieri in cui c'era la presenza russa questi sono edifici piuttosto alti a più piani si è la loro posizione si è espansa verso nord sono arrivati a occupare questa che è una chiesa suppongo no no non è una chiesa e questi altri edifici quindi queste due aree sono di espansione di controllo russo altrove vediamo la solita enorme attività da parte di entrambe le fazioni qui vediamo alcune alcune azioni ucraine quattro giorni fa di artiglieria però poi non ci sono stati altri aggiornamenti da parte russa vediamo la perdita di alcuni mezzi e anche qui vediamo mezzi far fuoco il 5 droni droni attacchi di artiglieria sulla avanzata russa i russi da parte loro da parte loro ieri hanno preso quest'area dove sono riusciti a portare delle bandiere ormai piazzano bandiere in ogni casa che incontrano che neanche a stalingrado nel 43 poi colonne distrutte il copione è sempre quello nella direttiva di espansione russa verso cura cove vediamo che c'è stata un tentativo intercettato dagli ucraini il 5 con dei mezzi distrutti sulla strada principale in direzione cura cove da parte ucraina e russa c'è la solita avanzata adesso la vediamo meglio più dinamicamente sulla mappa di deep state mentre nell'area di google dar vi faccio vedere quanto l'azione ucraina è stata efficace tre giorni fa con la distruzione di mezzi russi solito copione truppe in contatto e con panatico ora vediamo su deep state quanto hanno avanzato quanto sono riusciti ad avanzare i russi in tre giorni tre quattro cinque sei quindi parliamo di due tre chilometri circa un chilometro al giorno questo questo è ora ritorno poi sul discorso che ho fatto ieri dove si segnalava appunto un attacco con un drone da parte ucraina che ha colpito una nave militare questo è circola un video vi mostro meglio ieri vi avevo parlato del mezzo che gli ucraini hanno usato ed è proprio questo la 22 è un ultra leggero biposto modificato per essere pilotato in remoto o almeno avrà un sistema di pilotaggio autonomo e poi imbottito di carburante per potergli permettere appunto con la sua scarsa velocità di coprire una distanza così grande voglio dire ha fatto più di 1200 chilometri per colpire qui fate conto che ha ha coperto una distanza più grande da di da milano praticamente da milano a malta e 1300 1400 chilometri si è fatto a 100 chilometri orari insomma tipo 14 ore di volo sorvolando fra l'altro le aree più particolari del caucaso ora non credo che sia andato a sud della catena montuosa perché avrebbe volato sopra soci per fare questo ma penso che si sia tenuto sulle pianure del caucaso settentrionale ma comunque sorvolando aree molto importanti militarmente parlando come nalchik mozdok sono tutte basi militari densamente difese da sicuramente parliamo di sistemi radar e sistemi missilistici quindi tranquillamente questo drone ha fatto i suoi giretti e poi è arrivato a colpire circolano i video dell'attacco che ricorda un po le modalità dei degli aerei giapponesi della guerra nel pacifico vedete fra l'altro è arrivato bello alto intorno ai 400 metri di quota questa è una nave militare che si sta sparando e poi c'è il momento dell'impatto cioè mi fa strano davvero che un porto militare pieno di navi militari non lo abbiano battuto cioè un po ridicolo perché stiamo parlando di un aereo che va a 100 km orari cioè boh fa un po specie vedete anche questa unità che sta scendo dal porto sta sparando voglio dire sono unità che dovrebbero avere dei sistemi di difesa molto efficaci specialmente a corto raggio poi vedete a un certo punto il drone scende e colpisce tranquillamente un attimo dopo c'è la sua il suo botto ora è chiaro che esattamente come avveniva nel pacifico un aeroplanino che finisce su una nave non è che fa grandi danni perché non è pensato per avere un ordigno capace di penetrare lo scafo sono danni superficiali incendiari ma giù di lì per far per far danni seri durante il pacifico i giapponesi dovevano utilizzare più aeroplani e l'aeroplano era provvisto anche di una bomba aggiuntiva però i danni erano sempre quasi sempre superficiali perché insomma un aereo leggero è fatto di carta fondamentalmente quindi non poteva fare a meno che la porta aerei che colpivano i giapponesi non era piena di aeroplani sul ponte personale a quel punto i danni superficiali erano consistenti però insomma non si può paragonare un attacco del genere a per esempio un missile dedicato antinave con capacità di penetrare lo scafo cioè sono due cose molto diverse mi collego al video di ieri che la live di ieri in cui ho parlato abbondantemente del mig 29 e delle modalità che i piloti ucraini utilizzano qui vediamo una bella immagine di due fra l'altro sono disarmati quindi questa immagine suppongo che arrivi da un volo di addestramento e ci credo nel senso perché il primo aereo che vediamo è un aereo di addestramento fra l'altro curioso vedere che è un biposto e l'istruttore che si trova dietro ha una sorta di periscopio vedete per guardare avanti per prendere contro i comandi nel momento in cui serve per l'atterraggio una uno strela sa 10 è stato distrutto dalle forze ucraine e che è un'ottima notizia questo è un piccolo cingolato che trasporta un lanciatore di missili infrarossi a corto raggio quindi è un aereo che può difendere lo spazio aereo a corto raggio scusate è un sem che può distruggere aerei a bassa quota a corto raggio con dei missili a infrarossi per concludere parliamo di scie chimiche ve l'avevo promesso e mi collego al topic di mr pool did che colgo l'occasione per salutare il cui questo signore ci fa un grosso favore e ci svela uno dei più grandi complotti della storia sentiamo che dice in un'analisi approfondita delle emissioni atmosferiche è emerso che molte scie rilasciate dagli aerei contengono sia ossido di di idrogeno che la sua forma avanzata è potenzialmente più instabile il monossido di di idrogeno che da qui in poi chiameremo m h d ora il monossido di di idrogeno è una delle molecole più complesse e misteriose che abbiamo in natura una volta presente nell'atmosfera può facilmente infiltrarsi nelle strutture biologiche i test indicano che il 100% degli organismi analizzati ha riportato livelli elevati di m d h questo monossido di di idrogeno ok in aree questa è un'altra prova dei complotti delle scie chimiche in aree dove il monossido di idrogeno viene rilasciato in elevate concentrazioni si osservano frequentemente fenomeni di condensazione e precipitazione con effetti che possono arrivare addirittura fino al suolo ok quindi tutto vero il complotto delle scie chimiche è vero insomma gli aerei rilasciano questa sostanza che poi è responsabile addirittura di fenomeni che arrivano fino al suolo quindi signori indossate tutti il cappello di carta stagnola da oggi in poi addirittura a temperature sotto zero il monossido di di idrogeno forma strutture cristalline che esposte alla luce solare riflettono fortemente i raggi creando proprio queste scie visibili che possono persistere per minuti addirittura ore incredibile questa è veramente roba da darpa da tecnologia super segreta che tipo alieni scansatevi ok addirittura in alta quota il monossido monossido di di idrogeno agisce da nucleo di condensazione e può catalizzare la formazione di micro cristalli intensificando proprio lo stesso fenomeno noto come scia persistente quindi anche dopo che sono passati gli aerei rimangono per ore queste robe qui quindi sappiate che la prossima volta che vedrete scia bianche nel cielo è probabile che sia monossido di di idrogeno quindi denunciate denunciate sempre tutte le volte che vedete quindi quando vedete queste robe in cielo vi do il numero del darpa in sopra in presso in sotto lo scrivo nei commenti così potete chiamare questa super iper mega agenzia segreta governativa americana responsabile di distribuire monossido di di idrogeno bene ci siete cascati sì perché alla fine questa è una trollata è proprio una beffa quelli insomma che vogliono prendere in giro e complottari si sono inventati questa definizione del monossido di idrogeno che è sostanza è l'acqua è un modo scientifico per definire l'acqua anche se la comunità scientifica sottolinea che è importante continuare a chiamarla acqua perché così non si fanno confusioni e insomma è un modo simpatico per trollare i complottari e con questo vi saluto fatemi sapere nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale e un abbraccio alla prossima